Entra nel vivo il progetto SOFT, sistema occupabilità femminile territoriale ad agropoli. Lo scorso 12 dicembre sono stati avviati i servizi di ludoteca a 3-12 anni, presso l'oratorio Santa Maria delle Grazie, ludoteca prima infanzia e centro per i bambini e le famiglie, presso la scuola Mozzillo, tutti operanti da lunedì al venerdì. Sono 36 le donne destinatarie, inserite nella graduatoria del piano di zona S8, mediante procedura pubblica, sulla base del modello ISE, famiglia monoparentale. Avranno diritto a 144 buoni di servizio, voucher, da poter spendere per i servizi suddetti. Andiamo a vedere nel particolare in cosa consistono. La ludoteca per la prima infanzia, 0-36 mesi, è uno spazio ludico ricreativo che favorisce la socializzazione dei bambini, attraverso attività di gioco, valorizzando così la funzione educativa per lo sviluppo armonico della loro personalità. I spazi e le attività sono organizzati per gruppi di bambini, in rapporto all'età, sulla base di un preciso progetto educativo e ricreativo, 4 ore giornaliere, 10 bambini. Il centro per i bambini e le famiglie è un servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, che prevede la presenza di un genitore o familiare di riferimento. Le attività saranno organizzate sulla base di un progetto educativo, 3 ore giornaliere e 4 bambini. Infine, la ludoteca per bambini di età compresa tra 3 e 12 anni. È un luogo dove i minori potranno vivere momenti di aggregazione e di socializzazione tra coetanei. Le finalità sono quelle di educare attraverso il gioco, concorrere alla crescita evolutiva sociale e psicologica del minore e della sua famiglia, offrire uno spazio neutrale e protetto per incontri tra genitore e figli, in situazioni di conflitto e disagio relazionale. 4 ore giornaliere, 22 bambini. Contestualmente è stato attivato anche lo sportello Concila Point, presso la sede della Willa in via Sella ad Agropoli, nei giorni del martedì, ore 9.11, e del venerdì, ore 15.18. Il Concila Point è uno spazio dedicato all'erogazione di servizi al sostegno e all'occupabilità femminile, per tutte le donne dell'ambito territoriale S8. Tali servizi daranno così la possibilità alle mamme di frequentare, senza preoccupazioni, corsi di formazione e orientamento al lavoro, con l'obiettivo di aprirsi a nuovi scenari di tipo lavorativo.